serie a mente facciamo un gioco veloce veloce scegliamo una giornata a caso oggi che giorno è 19 quindi potremo fare la diciannovesima giornata ma di quale campionato potremmo farlo di 20 25 30 35 anni facciamo 30 quindi diciannovesima giornata dobbiamo tornare nel 93 diciannovesima giornata quindi 93 94 e come fu Atalanta Torino 2 a 2 Piacenza Sampdoria 2 a 1 Juventus Roma 0 a 0 con le espulsioni di Kohler e Bonaccina Lazio Reggiana 2 a 0 Genua Milan 0 a 0 Lecce Parma 1 a 1 Udinese Cagliari 1 a 1 con l'espulsione del Cagliaritano Herrera Napoli Cremonese 2 a 1 con un rigore sbagliato dal giocatore della Cremonese Dezzotti Inter Foggia 3 a 1 e infine Lazio Reggiana 2 a 0 vogliamo dire anche quella prima la prima di ritorno perché fu una giornata molto molto particolare con risultati a sorpresa e come fu Cagliari Atalanta 1 a 1 Roma Genua 1 a 1 Cremonese Juventus 1 a 1 Foggia Lazio 4 a 1 Torino Piacenza 1 a 0 Parma Udinese 0 a 1 con un rigore sbagliato dal Parmense Brolin Reggiana Inter 1 a 0 Milan Lecce 0 a 0 Sampdoria Napoli 4 a 1 con un rigore sbagliato sia dalla Sampdoria con Mancini e sia dal Napoli con Fonseca. Ci vediamo alla prossima con serie A Mente. Ciao!